C'è Francesco Coschizzo? Ah, sì! Si è deciso? Ma sì, ci stava troppo male. Allora, se è deciso di partecipare al programma di sperimentazione, iscrivete un e-ghost. Passiamo alla rubrica sulla tecnologia. Il nuovo sistema di digitalizzazione della coscienza, i-ghost, si è ormai diffuso a livello globale. Sono ormai milioni le persone che hanno intenzione di utilizzarlo. Vi proponiamo un'intervista in esclusiva al suo creatore, Matteo Bernardi. Che c'è? Ancora con questa storia? Ne abbiamo già parlato. Il fatto che ne abbiamo già parlato è un problema risolto? È proprio questo il punto. Il problema non ha soluzione. Quindi resta un problema mio. Ne abbiamo già parlato più di cento volte, Chiara. Perché? Perché facciamo sempre gli stessi discorsi? Vuoi una mano? Simpatica. Perché invece di aggiustare quella moto non pensi a risolvere il nostro problema? Chiara, te l'ho già spiegato centinaia di volte. Io ci ho provato, ma ci sono delle leggi della fisica contro le quali io non posso andare. Ti devi accontentare di quello che hai. Quello che ho? Ma io sono un fantasma. Sono un fantasma elettronico. Parliamo di quello che non ho. Io voglio essere una donna. Voglio essere vera. Voglio il mio rossetto. Il mio rossetto? Ma c'è una patch per quello. Di che colore le vuoi, labbra? Il problema non è il colore delle labbra. Io non posso toccare nulla. Come posso sapere di essere viva se non posso toccare nulla? Tutto è un'illusione. La nostra vita insieme è un mare di illusioni. Allora non ci resterà che galleggiare in questo mare di illusioni. Io ti voglio baciare, ti voglio graffiarti, voglio toccarti. Basta, basta, basta! Basta, basta! Grazie a tutti.